Volevamo, d'intesa con tutti i colleghi del comitato che hanno organizzato, innanzitutto ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato fattivamente con i loro contributi a realizzare la manifestazione. Ovviamente ringraziamo in anticipo tutti coloro che verranno sabato 8 luglio all'Anfiteatro Flaiano di Giulianova ad assistere alla presentazione delle foto che farò qua di Uvato ed accompagnato anche dai ragazzi del progetto Accademia Chitarra di Giulianova che ci allieteranno durante la presentazione. E ovviamente ringraziamo tutti i concorrenti che hanno partecipato al concorso. Parliamo di 27 artisti che con i loro scatti hanno voluto fissare gli antichi mestieri. Li definiamo così in generale. Alcuni non sono ancora perduti, altri sono usuali, altri inusuali, ma sono comunque tutti mestieri artigiani che ci consentiranno sabato sera di fare un bel tuffo nel passato. Come ho avuto modo di dire in conferenza stampa, noi siamo contenti e felicissimi di aver acquisito l'onore di portare avanti quella che è la terza edizione di questo concorso. Ne siamo felicissimi come dicevo e abbiamo intitolato questa mostra, questo concorso agli antichi mestieri. Proprio perché è proprio questo? Proprio per riportare alla ribalta quello che oggi i giovani non sanno e non vedono più. Anche trovarsi di fronte ad un lattaio. Che cosa sa? Che è un lattaio? È difficile dirlo ai giovani di oggi. E comunque noi vogliamo riportarlo in uno scatto semplice ma che porti alla memoria di tutti noi. E quindi li vogliamo portare alla ribalta di tutto questo.